Salve a tutti ragazzi, sono a Mormanno Calabro, ho visto un lupetto d'epoca La verità è assoluta, vedo se si può vedere di dentro Questo è il di dentro Interni in suo splendore, un poco malantati però è questo Questo è il camioncino d'epoca Il camioncino d'epoca O.M. Lupetto d'epoca, sono 19 settembre 2020 Salve a Mormanno, lo dedico a Claudio Raffaelli Bellissimo Lupetto, abbiamo visto gli interni che sono in suo splendore Peccato che gli interni potevano essere colati di più Di dentro è bellissimo Gli specchietti non so perché sono così girati Un po' di ruggine, guardate, lupetto d'epoca A Mormanno Calabro Oggi ne abbiamo 19 Cioè il 9 settembre 2020 abbiamo visto questo fantastico Lupetto d'epoca Lo dedico al gruppo degli antichi motori Alla lega degli antichi motori Al raduno dell'Aite, agli amici dell'Aite Agli amici della lega antichi motori A Claudio Raffaelli Alla vecchia gioia e soprattutto A Renato Bettini Che anche a loro piacciono questi camioncini d'epoca Grazie Grazie Grazie.